Ho iniziato Ciao Questo è un Let's adventure together Più o meno Cioè giochiamo sul mondo fatto già E dobbiamo Compiere Le cose che ci dicono Più o meno Ciao ragazzi Ho sbagliato tasto Volevo andare su opzioni Ho fatto Disconnect Ok Ehm Le regole sono mi sa Non cita niente Adesso te le dico Eccole qua Ok Shoas cosa vuol dire? Dove? C'è solo un chest Nascosto Abbiamo La x Fa vedere il punto Qua c'è una x Eccola Qua vieni Oh Sì Eccola qui Perchè escono dei zombie Mi sa che son baggati Perchè hai coso tutto tu? Perchè io posso Ok ho pensato agli alberelli Proviamo vedere Scusami Vediamo cosa c'è qua sotto Adesso ci troviamo in un box phone Perchè sento di tutto Sento scheletri Ragni e giù Ma dove ti sono? Boh Aspetta Aspetta Fermo un attimo Fermo un attimo Non scavare Andare Non c'è dirti Mi è andata via un attimo la connessione mi sa Aiuto c'è sasso Cosa? Qua giù c'è il sasso Buona sapere Oddio Cosa? Isi C'è cobblestone qua a destra E' andata via la connessione Un attimo di po' Sì? C'è cobblestone Ho visto Ma a me va via Un A volte la connessione sai? Ragazzi aspetta Quindi cobblestone Attento Oddio L'hai visto anche tu il ragno? Sì Non riesco a scavare perchè c'è sto ragno buggato Quindi oh Qua sotto qua sotto qua sotto C'è uno scheletro Oh cazzo Allora ci sono Oh no Chiudi 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 Ok ragazzi Come va? Adesso Prendiamo un po' di legna Stai registrando vero? Sì Perfetto Te l'ho fatto tutta io la legna Ehi Vai via No 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 Ok Lasciami stare Se ecco i seeds Anzi li lascio cadere Mi so che farà Ehm in quella casa cosa c'è? Quella lì? Non lo so Andiamo Aia Cosa fai? Allora il pvp è acceso Eh sì Non lo sapevo Ma tu non mi ucciderai vero? No No Tutta in mostone sta roba Che è inutile in teoria Non possiamo entrare Con sword o armatura? Beh chi se ne frega Non puoi entrare Chi se ne frega entra lo stesso Va contro le regole Morirai Chi se ne frega Vieni dai Non è il senso della challenge fatto quello Dai vieni Non voglio perdere i miei oggetti se tu muori e perdi la nostra legna Qua mi picchi vero? Mh Ho trovato una scala Si Dispenser Perchè c'è un dispenser? Perchè non puoi entrare Senza non c'è niente a quanto pare C'è il mondo di terra qua Questo qua non mi piace Eh cosa ci fai lì? Sento un mob Un casino di mob sento Qua c'è tipo il mondo di terra Ma che cacchio? Altra scala ho trovato Ah non ci sono materiali rari Oddio un altro mob spawner pieno di mob Aiuto No no scappiamo scappo 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 Spero che muori Sto scappando Cioè speri che muoio con la tua legna? No sto scherzando Il problema adesso è come uscire Ma è così grande? Minchia Cioè E' una casa mini Allora sarà tutto sotto vero? Scusate la cosa Siamo entrambi malati Però c'è un'altra via Io provo a fare quest'altra via Nooo morirai Che bell'amico che sei eh Mh è vero Vero Ti è Sostengo anche È cresciuto un altro albo Adesso mi faccio un piccone Ehi Oddio Glowstone è sotto una cesta Si Wow 5 diamanti Sì Anche se entro io non potremmo star lì Ma si ma senza Adesso il problema è tornare Per fortuna non c'è nessun mob per ora Venti davanti a te Oh mio dio no Direi 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 di farci delle torce E vai sono uscito Complimenti Sì Prendo delle torce redstone che ci sono qua Che sono molto utili Sì Naturalmente sono ironico D'hanno anche molta luce Esatto Ho 5 diamanti E una cesta E anche 3 glowstone Barone Perché barone? Perché non potresti star lì Vuoi male Perché si Non prendiamo 6 cesta qua Sto prendendo un po' di sassi Anche se non ho capito bene le regole Non le so bene neanch'io quindi Andiamo a caso? Si esatto Ok ho fatto 20 legna Io ho già 20 sassi Arrivo aspetta Come hai fatto il piccone? Il legno? Si Dietro di te c'era una verpench comunque Vabbè non mi interessa Vabbè In passi 3 cobblestone E 2 stick Tieni Tieni Oh Ah io la piccola piccola in pietra adesso Sì in buon per te Un po' c'era in legno No Perché dovevo prima prendere i materiali Sì sì scusa Non sei Non sai con che picca si inizia Eh già Vergognati Appunto si inizia con la picca di sasso Ovvio Ovvio Sì ho la picca anche in pietra e poi Perchè c'è quel muro gigante? Dove? Sono i confini? Come i confini? Non puoi passare Io speravo ci fosse soltanto C'è tutta acqua oltre No Ma è la stessa cosa Perchè la c'è cobblestone? Perchè Suppongo che sai la risposta No No Eh E lo sapevo Quando saranno Saremmo Pronti adeguatamente Entrerò Pluff No ho preso 7 cobblestone Potevo prenderne un'altra E facciamo una fornace Vabbè Ok Adesso Come dormiamo? Boh Io con una spada di diamante No 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 Sto scherzando Dove sono i diamanti? Da nessuna parte Dove sono i diamanti? Ci facciamo due spade? Vai Anche se in teoria è un po' barare ma Lasciamo stare Facciamo finta di niente Esatto Anche voi zitti Non avete visto niente No no Cosa fai? No sono caduto Ci serve cibo Non ne abbiamo Vabbè tanto lo spawn è qua Quindi Ho paura di Mi sa che non c'è solo Chio